La nostra regione è interessata dal passaggio di una perturbazione collegata ad un minimo depressionario che dalle Baleari si sta spostando rapidamente verso nord-est, depressione che nelle ultime 24 ore ha richiamato nella libera atmosfera intense correnti di scirocco e ostro che hanno trasportato sulla nostra regione un'enorme quantità di polvere dal deserto. Pulviscolo che nel corso della scorsa notte si è depositato al suolo grazie alle precipitazioni che hanno interessato buona parte del nostro territorio. La situazione ora è in via di miglioramento anche se una nuova perturbazione estesa dal nord-africa al golfo di Biscaglia. Osservate sulla cartina come tale perturbazione si arqua proprio in prossimità del golfo di Biscaglia dove nella giornata di domani sarà presente il fronte occluso. Vedete quel colore amaranto del fronte. Dicevo questa perturbazione è pronta per fare il suo ingresso sul bacino del Mediterraneo. Questa volta però avrà una traiettoria più settentrionale tale da interessare molto marginalmente la nostra regione determinando scarsi fenomeni. Anzi richiamerà correnti molto miti dal nord-africa che causeranno un nuovo temporaneo aumento delle temperature. Ma ecco in dettaglio il tempo previsto per questo fine settimana. sabato 23 aprile condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso ovunque con maggiori spazi soleggiati sul Cilento. Temperature in aumento, venti deboli meridionali tendenti a rinforzare in mare aperto. Mare molto mosso a largo, poco mosso sotto costa. Domenica 24 condizioni di cielo nuvoloso sul settore centro-settenzionale della regione dove tra il Casertano e l'Ispinia non si esclude qualche isolato rovescio. Sulle rimanenti aree condizioni di tempo discreto con passaggi di nubi innocue, temperature senza particolari variazioni con tendenza a lieve diminuzione dalla serata, venti moderati a tratti forti da sud-ovest e mare molto mosso. Lunedì 25 aprile condizioni di cielo poco nuvoloso ovunque con ventilazione tra debole e moderata prevalentemente occidentale. Temperature in lieve diminuzione ma su valori in linea con la media del periodo. Mare da mosso a poco mosso. Nei giorni successivi non avremo grosse variazioni concorrenti sempre occidentali grazie alla presenza sull'Europa centro-occidentale di una doppia circolazione depressionaria. Osservata la cartina sovraimpressione. Almeno fino a mercoledì 27 aprile dunque non avremo l'insediamento in area mediterranea di una solida figura di alta pressione anche se almeno sulla nostra regione il tempo sarà discreto con temperature che tra martedì e mercoledì subiranno un lieve aumento. Per tutti i dettagli invito i telespettatori a consultare i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito www.meteogiuliacci.it e sul gruppo facebook Meteo Cilento. Termino qui un buon fine settimana da Giuseppe Stabile